Vengo lì e ti ammazzo. Questo era solo uno dei tanti messaggi che un 48enne residente nel Vicentino continuava a mandare alla ex. A suo carico c'era già un divieto di avvicinamento alla donna residente nel Padovano, ma non avendolo rispettato è stato arrestato dai carabinieri domenica poco prima dell'alba. La situazione infatti è precipitata nel fine settimana quando la vittima ha deciso di rivolgersi per l'ennesima volta ai carabinieri, preoccupata per l'insistenza dell'ex che si è presentato puntuale nel locale notturno del miranese dove lei lavora. Inevitabili a quel punto le manette per atti persecutori.